Continua il maltempo sull'Italia anche per domani, venerdì 29 luglio, è prevista allerta meteo gialla della protezione civile in Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Come spiegano i meteorologi, una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà sulla nostra penisola piogge temporali sulle regioni settentrionali, sono previste precipitazioni diffuse che potranno essere anche molto forti con grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.